L'amministrazione comunale è tornata nella disponibilità piena di Villa Giulia ed è questo un fatto importante perché si è stabilito che era assolutamente infondato il provvedimento di sequestro disposto dalla magistratura ma il Tribunale del Riesame ha confermato le buone ragioni dell'amministrazione comunale riconsegnando al Comune di Palermo la responsabilità di questo splendido monumento, questo splendido pezzo della storia di Palermo e da questo punto di vista siamo qui per illustrare quali sono gli interventi positivi che facciamo dopo questo intervallo di questo immotivato sequestro della Villa. Oggi questo bene è stato riconsegnato al Comune di Palermo che continuerà ad occuparsene come se ne è occupato in passato e come fa e cerca di fare con riferimento ai beni che rientrano nella propria competenza. Grazie a tutti! Grazie a tutti!